Il primo evento che teniamo a Montori Alvomano è in particolar modo fortemente voluto da Achille Chessone e Canta, che è il gruppo organizzatore dell'evento, associati all'Associazione dell'Arte Viva. Quindi grazie al loro intervento e grazie alla collaborazione del Comune siamo riusciti a mettere in piedi questo evento storico, di forte tradizione popolare. Il Sant'Antonio Abbate è una ricorrenza molto sentita per quello che riguarda la regione Abruzzo soprattutto. Nel Terramano come provincia i fautori sono stati il popolo germinianese e poi mano a mano a ruota si sono accodati un po' tutti. Partendo dalle frazioni che per noi rappresentano il punto cardine della tradizione popolare, appunto il 15 e il 16 di gennaio l'evento presso le frazioni dove ognuna di loro si è organizzata tramite un punto di ritrovo per ricevere il popolo che interverrà appunto a questo evento dove noi con altri due gruppi che ci accompagneranno per questa manifestazione, quindi oltre a chi le che sono in cante ci saranno i briganti del Gran Sasso, gli amici del Gran Sasso, terremo la manifestazione accompagnata con musiche, canti e balli popolari. Il 17 c'è il Gran Finale poi in piazza a Montorio dove la manifestazione entra appunto nel vivo dove saranno presenti degli stand enogastronomici accompagnati dall'Associazione del Gusto e grazie anche alla collaborazione degli alpini avremo la fortuna di avere il fuoco del Sant'Antonio che è il fuoco rappresentativo dell'evento in piazza accompagnato dal vin brulè. Tutto questo, la manifestazione è impostata dalle 15 del pomeriggio di domenica fino a fine manifestazione intorno alle 20-21 circa dove ci sarà poi l'estrazione della lotteria.